I Carabinieri della Compagnia di Marsala, diretti e coordinati dalla Locale Procura della Repubblica con l'ausilio del nucleo cinofili di Palermo-Villa Grazia e del XII Regimento Carabinieri Sicilia, hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Marsala su richiesta della Locale Procura nei confronti di 11 indagati, 3 in carcere, 3 agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e 5 con obblighi di dimora nel comune di Marsala e di vieto di uscire nelle ore notturne, per cui si è ritenuto sussistano gravi indizi di colpevolezza a vario titolo in relazione ai reati di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Sono anche state sottoposte a sequestro preventivo due società di vendita e noleggio veicoli aventi sede a Marsala e riconducibili a uno degli indagati. Il provvedimento trae origine dalle indagini condotte dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Marsala, coordinati dalla Procura della Repubblica Lili Betana, volte a reprimere una lucrosa attività di traffico di cocaina sull'asse Catania-Marsala. Alcuni indagati, infatti, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbero organizzato in più occasioni il trasporto della droga dalla città etnea, avvalendosi di insospettabili autovetture a noleggio intestate a due società marsalesi. Sarebbero giunti ogni mese due chilogrammi circa di cocaina che avrebbero inondato la città favorendo lucrosissime entrate illecite per i trafficanti. A Marsala, infatti, la cocaina sarebbe stata ceduta ai locali pusher per l'approvvigionamento delle piazze di spaccio cittadine. L'indagine dei carabinieri aveva già consentito di arrestare in flagranza sette persone, sequestrare tre chili di cocaina e circa 40 mila euro in contanti ritenuti provento dell'illecita attività. A marzo del 2021, in pieno periodo Covid, a dimostrazione del modus operandi degli indagati, i militari dell'arma, durante un posto di controllo nei pressi dell'area di servizio lungo lo scorrimento veloce che collega Trapani a Marsala, avevano arrestato un cittadino catanese con numerosi precedenti penali e un marsalese, entrambi già percettori del reddito di cittadinanza che nel vano bagagli di un'auto a noleggio nascondevano due lastre di materiale bianco del peso di oltre due chilogrammi, rivelatesi essere cocaina con una percentuale di purezza elevatissima. Lo stupefacente avrebbe fruttato, una volta tagliato, oltre 200 mila euro. Tra le persone attinte dall'ordinanza del GIP di Marsala vi è nuovamente la Corriere Catanese, il quale, nei giorni scorsi, è stato tratto in arresto anche in una vasta operazione dei carabinieri di Catania, che ha messo in luce gravi indizi di colpevolezza a carico di alcuni indagati, tra cui un soggetto molto vicino al citato Corriere, in ordine ai delitti di traffico di stupefacenti aggravati dall'aver favorito il locale clan mafioso dei Cappello.